Sarà presentato domani 25 novembre presso la sala consigliare del comune di Piedimonte Matese l'ultimo lavoro di ricerca nei luoghi storici della città matesina realizzato da Giuseppe Buonomo il quale ci porterà per mano a spasso nella città fra i tanti siti storici molti dei quali nemmeno troppo noti ai molti. La nostra Benedetta Venditti ha sentito per noi Giuseppe Buonomo in una breve intervista che pregarei la regia di mandare in onda. Salve dottore, allora innanzitutto raccontiamo ai nostri telespettatori come nasce l'idea di questo lavoro. Questo lavoro in effetti nasce al termine di un ciclo che oggi si conclude che dura da circa 25 anni, un ciclo fatto di ricerca, di pubblicazioni e di monografie sul centro antico di Piedimonte che va qua dal convento e dalla chiesa di San Dombasso d'Aquino, la cappella di San Biagio, Santa Maria Maggiore, San Rocco e i conventi di Santa Maria Correvole. Perfetto, ma raccontiamo ai nostri telespettatori esattamente di cosa tratta il suo libro. Il libro vuole essere una guida turistica ma nello stesso tempo è una guida che porta per mano il turista ma anche lo storico chi vuole fare ricerca nei monumenti antichi di Piedimonte, nelle sue chiese, in Palazzo Dugale e nei conventi di Santa Maria Correvole. Perfetto, ultima domanda ma non meno importante, dove è possibile acquistare il suo libro? Il libro lo regaliamo, approfitto di questa intervista per ringraziare la Prologo Vallata che è stata l'ideatrice ma soprattutto ha finanziato l'intera opera e domani sera quando presenteremo la guida lo regaleremo a tutti gli intervenuti ma ne faremo omaggio a tutte le scuole di ogni ordine creato, alle biblioteche e a quando ne faranno ricerca. Complimenti per questa iniziativa bellissima da Piedimonte Matese e Benedetta Venditti per casertasera.it